Finale di stagione infuocato per due delle serie tv più iconiche di sempre. Avete riconosciuto le immagini? Stiamo parlando di Grey's Anatomy e Station 19. I medici e i pompieri più amati e più sexy della tv sono tornati per un finale di stagioni che ha elettrizzato il pubblico. Il ritorno di Meredith Grey che nel finale della diciannovesima stagione aveva salutato il pubblico è stato un momento attesissimo. Quello con la protagonista della serie tv più longeva della storia del medical drama non è un addio. Il network americano che da settembre trasmetterà la venturesima stagione di Grey's Anatomy ha infatti confermato che Meredith Grey tornerà ad essere protagonista per almeno 7 episodi. Niente di fatto invece per i protagonisti di Station 19. I vigili del fuoco più coraggiosi di Seattle a settembre non torneranno in tv. Lo spin-off di Grey's Anatomy ha infatti salutato il suo pubblico con la decima puntata della settima stagione. L'unica speranza per i fan di Station 19 è che i protagonisti che incrociano le loro storie con quelle dei medici di Grey's Anatomy possano ritrovarsi nella venturesima stagione del medical drama. Destino possibile è questo per l'italianissima dottoressa Karina De Luca e per il vigile del fuoco specializzando in chirurgia Ben Warren. E voi siete tra il pubblico che si è appassionato al finale di stagione di queste due serie tv? Quali sono i personaggi di Station 19 che sperate di rivedere in Grey's Anatomy? E soprattutto quali saranno secondo voi i colpi di scena che vedremo il prossimo anno al Grey's Loan Memorial? Sbondeteci nei commenti e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano anche le serie tv più seguite del mondo.